C'è un'ipocrisia enorme di chi dice facciamo arrivare gli immigrati irregolari nel nostro paese perché salviamo le persone più in difficoltà, perché in realtà le persone più in difficoltà in Africa non stanno partendo, i veri malati, i bambini, sono pochissimi, chi realmente non ha i soldi per pagare quel viaggio, perché stiamo parlando di migliaia di dollari costa quel viaggio, che sono gli ultimi fra gli ultimi, sono quelli che in Africa vi rimangono e su quello su cui noi non facciamo finta che non esistano e qualcuno si vorrebbe lavare la coscienza invece accogliendo chi invece può permetterci un viaggio illegale. Dopodiché io sarei anche favorevole se si riescono a fermare gli immigrati irregolari invece a favorire l'immigrazione regolare, cioè quell'immigrazione che viene rispetto alle regole, lavora ed è controllata, perché quello è un fatto positivo per un paese, se è attrattivo da quel punto di vista, però una cosa se si sceglie un'immigrazione per sviluppare il proprio territorio, una cosa se si subisce un'immigrazione irregolare che non sviluppa il proprio territorio, ma anzi troppe volte porta anche una situazione di tensione sociale, una situazione che non è neanche utile a chi arriva, perché voglio dire che chi arriva non è che ha nuove opportunità. Quelli che sono sbarcati in Sicilia sono il ministro Piantedosi di stare distribuendo, immagino che non sia previsto per il Florenza Giulia che ha la rotta balcanica. Esatto, che è già molto consistente sulla quale bisogna sicuramente rafforzare i rapporti con i paesi della rotta stessa dove passano, sicuramente avere un forte dialogo con la Turchia, da dove partono, altrettanto favorire il più possibile tutte quelle misure, penso prima di tutte le riammissioni in Slovenia, che erano una cosa che funzionava e che oltretutto garantiva una situazione di legalità, perché oggi nella rotta balcanica abbiamo persone che arrivano in un paese europeo, la Slovenia, democratico, nel quale potrebbero chiedere la protezione, non la chiedono e vanno in un altro paese. Quindi chi continua a strizzare l'occhio all'immigrazione irregolare, chi continua a voltarsi dall'altra parte rispetto all'illegalità che si cela dietro all'immigrazione irregolare, chi si continua a voltare dall'altra parte rispetto a chi sfrutta anche questi canali per trasportare persone sta solo dando una mano alla malavita.